Musica 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 Dai ragazzi Babbo Natale Musica Bellissimo Vai ragazzi Ma Vai Vai tutti dietro Dai bambini E poi che va portato ragazzi Babbo Natale Debora Che ti ha portato a te Debora Musica 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 Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. No, non me lo dice, si sta un po' emozionato. Vai. Niente, 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 niente. No, non me lo dice, si sta un po' emozionato. Andanè, va a vedere i regali. Dai, allora aspettate. Chi è, chi è questo? Lucia, wow, hai fatto la brava. C'è qualche un'altra cuscina? No, no, no. Adesso dice, Simone, chi è? Mamma, è un uomo ragno. Ah, è un uomo ragno. Ah, è un uomo. Eh, è un uomo. E' un uomo. Buona prova. Ce ne sono due, Simone. Ce ne sono due, Simone. due letterine allora hai mandato con due regali bravo tu come ti chiedi? Luca